si chiede fuoco e non solo mi chiede che li portassero via a casa. Il muratore di Vittoria, in provincia di Ragusa, aveva contratto un debito con la banca di meno di 10.000 euro. L'abitazione era finita all'asta ed era stata acquistata da altre persone. Un estero sull'aereo russo precipitato nel Siena e con 224 persone a ruoto. Per la compagnia aerea unica a causa possibile un fattore esterno, ma per il Cairo il delincolo non è stato corpito da fuori. Smentito che i piloti abbiano lanciato un SOS in cremino, non si può escludere la pista del terrorismo. Era una domanda con questa la maggioranza assoluta del Parlamento Duomo, costruendo un cibo di manifestazioni e scontri tra curvi e forze di polizia.